No, no, no! Fa' un appoggio, non mi può tornare. Cos'è il mio padre diomo, i nostri padroni del memo, che non c'è in questo istante. Io sono male giusto. E ritorno da voi dopo… cos'è, sono un paio di mesi? Più o meno. Oh, sono molto contento, faranno molto… ci sarà io, anche il mio back. stasera facciamo il talent scout ogni tanto mi passa sotto i miei occhi qualche giovane cantante musicista che secondo me è bravo e io dico dai magari stasera con me hai la possibilità diciamo di farti i denti per la prima volta io vorrei che vuoi dare molto attenzione a questo giovanotto perché ha una tocca al pianoforte non indifferente l'età 13 anni già qualcosa voce sta arrivando ma la voce c'è ma soltanto che è lui che deve arrivare alla voce perché è giovane vorrei dare un grande applauso a questo giovanotto per i nostri amici possono aprire le nostre separei memo musica live allora non voglio presentare questo è Danny Fisher io sono Daniel ho 13 anni e sono già stato al Memo ho stato qui all'anno saggio con Born for Music che oggi apro per Ronnie Jones e la prima canzone che faccio si chiama Lady Madonna di Beatles grazie a tutti 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 grazie a tutti